eccoci pronti per una nuova puntata di parola al direttore ritroviamo con piacere vittorio feltri direttore editoriale di libero grazie per essere con noi direttore a voi continua la tradizione assolutamente anno nuovo vita vecchia da questo punto di vista però partiamo proprio dall'anno nuovo no come è iniziato questo 2023 un commento generale per rompere il ghiaccio diciamo che come tutti gli anni anche questa volta abbiamo assistito a un'elencazione di buoni propositi e speriamo che i buoni propositi poi si realizzano si realizzino cosa cosa che mi fa dubitarlo perché dubita così giusto in apertura che diciamo riferimento è al governo qualsiasi governo si trova purtroppo di fronte a un debito pubblico mostruoso per cui non può fare degli investimenti per non aggravare appesantire ulteriormente i conti dello stato e questo naturalmente impedisce delle iniziative che possono apportare autentici benefici alla società si tira la campana questo è il vero problema è un po circolo vizioso però direttore no perché poi parleremo del nuovo governo inevitabilmente però ogni anno ci troviamo a dire la stessa cosa proprio perché in italia non c'è sembra che non ci sia mai il tempo di mettere a punto degli interventi strutturali che possano aiutare a tamponare meglio sempre sempre lo stesso si vogliono i soldi si vogliono i fondi ma siccome noi abbiamo accumulato nel corso degli anni di molti anni un debito pubblico mostruoso che è tra i più alti del mondo e quindi questo ci impedisce e di fare delle spese perché fare delle spese significerebbe appesantire aggravare ancora di più un debito pubblico che è insostenibile sono già sfumati volevo fartela dopo direttore questa domanda ma l'anticipo le speranze legate al pnr a questo punto beh ma del pnr nessuno capito niente non si sa come funzioni non si sa quali siano i progetti da finanziare quindi mi sembrano di più che altro discorsi fumosi dobbiamo attendere che cosa succede in pratica dopo di che potremmo giudicare per il momento è prematuro l'evoluzione poi delle degli eventi è velocissima in questo momento complice anche la situazione economica questo questo lo sappiamo ecco nella nostra lista della spesa come accennavo poco fa non può mancare il nuovo governo il governo meloni e quindi facciamo un bilancio dei primi cento giorni no si fa di solito un bilancio appunto e partiamo anche dalle scelte che il governo ha dovuto fare che sono state ritenute anche un po' impopolari nel senso mi riferisco per esempio alla scelta legata al caro carburante di noi anche qui diciamo c'è un errore di fondo il carburante era così anche prima quindi non è che ha aumentato il prezzo della benzina il prezzo della benzina e del gasolio queste cose era già altissimo e lei non è riuscita a diminuirlo ma diciamo finché fin tanto che c'erano i governi draghi e i governi di sinistra nessuno ha diminuito il prezzo della benzina nessuno diceva niente siccome non lo ha diminuito la meloni addosso alla meloni mi sembrano discorsi veramente puerili oltre che oltre che stolti diciamo che governo meloni però lo leghiamo un altro aspetto economico ha deciso di non prorogare la diminuzione delle accise lo so per alcune accise però è anche vero che arriviamo da una manovra molto dolorosa cioè per l'emergenza rincari in generale per il costo della vita e le bollette ma non c'entra il governo con le bollette no 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 dico però il governo me non ha dovuto destinare parte dei fondi della manovra a quest'altra emergenza diciamo che bisogna mettere sul piatto della bilancia un po tutto le bollette ovviamente non c'è dubbio ma voglio dire anche l'inflazione che è altissima inflazione è partita qualche tempo fa prima che la meloni facesse inflazione è partita anche in tempi non sospetti quando ancora poi che cosa non c'entra niente da meloni con l'inflazione è un fenomeno europeo non mondiale ma europeo molto importante e che condiziona la vita anche degli altri stati europei non solo solo il nostro quindi certe polemiche sono completamente vuote di significato l'inflazione arriva dopo il periodo prolungato di restrizioni a causa del covid e ovviamente i prezzi sono saliti è una guerra in corso che oltretutto costa anche a noi perché quando noi inviamo delle armi domando il perché non sei d'accordo sull'invio delle armi no no perché significa prolungare la guerra voglio dire siccome a me le guerre non è che piacciono molto è verissimo che è stata la russia ad aggredire l'ucraina però se io vengo aggredito e sono visibilmente più debole c'è subito di trovare un compromesso cosa che non è mai stata fatta tra russia e ucraina non è riuscita neanche la diplomazia occidentale in questo ebbè ma cosa c'entra lì è un problema che riguarda due stati che litigano e che cosa possiamo fare a noi noi non ci inviamo delle armi così prolunghiamo l'agonia questa è la sintesi brutale sì sì beh infatti dopo un anno siamo ancora qui a parlarne e invece diciamo così nelle attese sembrava dovesse essere una guerra flash per quanto brutta e per quanto non avrebbe sicuramente cambiato a livello simbolico il significato di questo conflitto però avrebbe già anticipato la fine invece siamo ancora qui a parlare ancora distruzione morti e non riesco a capire come mai ci sia questa tenacia nel voler continuare a far crepare dei cittadini e a sfasciare città che poi bisognerà ricostruire serviranno dei quattrini che non ci sono quindi io non sono assolutamente d'accordo con questa politica dello sfascio quindi parlavo prima di lista della spesa di là del fatto che c'è questa associazione poco carina rispetto ai prezzi che continuano a salire insomma povertà assoluta che aumenta disagio sociale anche perché poi di quello dobbiamo parlare il fatto della povertà io non ci credo sì certo che i poveri sono sempre esistiti e quindi ma credi che non sia aumentato esponenzialmente così come sembra non capisco perché è come la disoccupazione tutti parlano di disoccupazione a me risulta che le aziende stiano cercando tutte le aziende dalle più piccole più alle più importanti cercano personale e non lo trovano quindi secondo me i posti di lavoro ci sono manca chi ha voglia di fare il lavoro ecco e anche la capacità perché un tempo per esempio i ragazzi che non studiavano andavano a fare gli apprendisti nelle botteghe e imparavano un mestiere oggi un mestiere non sa fare nessuno e se tu non sai fare nessun mestiere che lavoro vuoi trovare questo è il punto competenze formazione che bisogna ovviamente sviluppare infatti a milano dove c'è una regione che funziona dove viene fatta l'istruzione dei ragazzi si trovano anche i posti di lavoro visto che parliamo di lavoro cosa ne pensi dei due dibattiti diciamo intorno uno al salario minimo che è tornato un po in tutta la sua forza rispetto a una volta e reddito di cittadinanza ma c'è già il salario minimo perché i contratti collettivi nazionali sono salario minimo voglio dire e poi come quando si dice che le donne guadagnano meno mi sembra una stupidaggine perché se tu fai il magistrato tu donna sei magistrato prendi i tot io se sono magistrato prendo lo stesso tot quindi perché il contratto è nazionale lo stesso vale per gli insegnanti per gli impiegati per un sacco di gente sì forse vale un po meno per altre professioni che non sono regolate da contratti nazionali perché contratti nazionali ma quali vorrei sapere quali ti faccio una domanda provocatoria tu e giornalisti e giornaliste dai la stessa cosa ma c'è un contratto nazionale ma i giornalisti hanno il contratto domanda provocatoria no no non è provocatoria perché i contratti sono collettivi quindi quello che percepisce un giovane praticante lo percepisce anche una giovane praticante non è che tu puoi dare di meno perché è una domanda che ha la gorna ma sono stupida ma io sono ben contenta di sentire questo la verità non è che non mi invento niente no 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 sì forse poi il problema è che nella nostra professione più che in altre ci sono società che approfittano del fatto che un giovane voglia fare il giornalista e non applica le tariffe diciamo così del contratto nazionale questi siamo fuori laser assolutamente io sto parlando delle norme le donne spesso faticano di più a fare carriera perché c'è la questione della maternità cioè non tutte ma molte si sposano o non si sposano fanno un bambino poi il bambino diventa prevalente nella vita di una donna almeno quando è piccolo lo deve crescere e quindi spesso si assenta anche dal lavoro quindi se io devo fare un dirigente qua dentro non scelgo una donna io scelgo le donne perché sono più brave io personalmente però io non c'entro di solito le donne vengono penalizzate in questo senso dato che purtroppo per fortuna i figli fanno solo le donne e non gli uomini fra l'altro io che cosa ho fatto qua a Libero ancora molto tempo fa visto che le donne anche quando lavorano pensano sempre a casa al bambino sono sempre un po' in agitazione ma magari rendono meno sul lavoro allora che cosa ho fatto? ho detto portateli qua i bambini i bambini sono venuti qua non disturbano affatto non è vero che fanno casino stanno con le loro mamme le loro mamme sono contente perché hanno lì il figlio lo tengono bene gli insegnano anche l'educazione in modo che non facciano casino e quindi non è un problema poi ho aperto anche ai cani beh tu ami molto gli animali però questo no però guarda esempio virtuoso da prendere guardo anche la nostra telecamera anche se ecco seguitemi regia perché questo è un ottimo spunto si rende di più se si è più tranquilli in generale e quindi visto che in Italia c'è ancora questo gap tra la maternità e la carriera questo già è un primo passo perché le aziende non possono fare guardiamo il nostro mestiere non è diciamo emblematico però comunque è un esempio chi è il direttore del Tg1? è una donna certo il vice direttore fino a poco tempo fa è stata una donna una donna che è il direttore del resto del cardino della nazione e del giovane una donna esatto una donna quindi non mi pare poi se vai a vedere anche nelle aziende anziché proprio ultimamente è stata anche diciamo è stata data più responsabilità ancora alla direttrice Pini soprattutto è chiaro anche se è femminista a me non mi afferra niente del femminismo eccetera ma è chiaro che non ci deve essere nessuna differenza fra maschio certo ma è una realtà però è già una realtà abbiamo anche una premier donna adesso abbiamo anche una premier donna cosa che non è poi tanto strana perché poteva succedere anche in passato solo che i luoghi comuni spesso prevalgono sulla ragione quindi le donne in politica si sono sempre dedicate meno certo beh Giorgia Meloni ora è presidente del consiglio ma è l'unica leader di un partito donna quindi questo già è la dimostrazione anche se ora la presenza femminile in politica ovviamente è molto più ampia rispetto al passato a parte abbiano un amico esatto no no assolutamente no ma poi insomma ultimamente abbiamo visto per fortuna un po' più la presenza femminile anche se poi vince sempre il merito e questo lo diciamo sempre al di là del genere ma nel nostro mestiere purtroppo le donne sono più brave nel mestiere del giornalista ma per un motivo semplice che fino a 30 anni fa le università erano quasi vietate alle donne io mi ricordo anche in casa mia avevamo una sorella al massimo può fare le magistrali no? la maestra poi a un certo punto le università si sono spalancate anche alle donne e adesso gli iscritti all'università sono più numerose le donne degli uomini quindi è chiaro che le donne vanno più avanti perché se quei coglioni degli uomini non studiano e studiano le donne è chiaro che le donne vanno avanti per esempio nella medicina sono più le donne io ho due o tre medici che mi seguono la routine e sono tutte le donne a parte che sono anche carine in molti casi che non quasi l'occhio vuole la sua parte l'occhio sì e quindi poi ho due avvocati e due donne da quando ho queste due donne non ho più perso una causa cioè insomma vorrà dire quello che dico io è che le donne ci mettono più impegno perché intanto devono dimostrare a se stesse prima che agli altri di essere all'altezza e quindi si impegnano con una tenacia che fa impressione poi hanno una ricchezza di linguaggio maggiore rispetto a quella dei maschi di norma non bisogna generalizzare però insomma è più o meno così è chiaro che sono più volabili rendono di più le leggi più volentieri poi sono anche più attenti insomma io non sono mica un femministe anzi mi stanno tipati che le femministe però la realtà è questa come diciamo il merito bisogna riconoscere il merito ecco direttore per così dire tanto per non farti mancare niente e per parlare ancora di politica hai deciso di candidarti come capolista a Milano per Fratelli d'Italia per le elezioni regionali perché questa scelta? No ma non è una gran novità perché già quando ci sono state l'anno scorso mi pare in ottobre le elezioni amministrate eri candidato ero candidato e sono arrivato primo numero di consensi quindi non è proprio una novità lo dico perché sono stupito io stesso l'avrei preso tanti voti senza aver fatto la campagna elettorale infatti quando mi chiedono come si fa a vincere le elezioni basta non fare campagna elettorale perché la campagna elettorale rompe le scatole alla gente e quindi non ti vota per quello quindi non hai fatto i santini Vittorio Feltri? no no niente io non faccio assolutamente nulla lo dico se vado in televisione che me lo chiedono lo dico e dopo di che se mi vogliono votare mi votano se non vogliono votarmi posso dire una frase scurile non me ne frega un cazzo è l'atteggiamento più giusto scusate io non ripeto anche perché quella è tua citazione Vittorio Feltri ma insomma bisogna prenderle un po' così no le cose a volte vanno proprio meglio quando si prendono in questo in questo modo anche perché comunque voglio dire le persone salvo quelle che sono appena entrate in politica si fanno conoscere già a prescindere dalle persone insomma quindi così facciamo un riassunto della puntata quali sono secondo te i temi su cui deve insistere il governo perché poi ovviamente la politica a cascata va a incidere sulla vita di tutti i giorni soprattutto in questo momento in cui c'è effettivamente richiesta che si agisca per migliorare determinate situazioni secondo me bisogna creare una scuola che sia in grado di insegnare dei mestieri perché non tutti possono fare l'università diventare ingegnere perché si ha bisogno di un saldatore cosa te ne fai di un ingegnere il saldatore però bisogna sapere lo fare bisogna che qualcuno lo insegni e i ragazzi devono rendersi conto che per trovare un posto di lavoro devono imparare un mestiere se non sanno fare un mestiere non trovano anche quelli che fanno i camerieri il cameriere non è così facile io mi arrabbio sempre quando guardo negli istoranti perché i camerieri guardano dappertutto meno che ai tavoli quindi tu sei lì con la manina che vuoi magari una bottiglia di acqua minerale e nessuno ti fila anche i mestieri più semplici però bisogna sapere di fare certo si è persa un po' la competenza soprattutto nei mestieri più manuali beh certo ma siccome la gente non studia al sud tutti si lineano perché non trovano un posto non sanno fare niente se vuoi fare l'operatore televisivo devi sapere che usare una telecamera invece se uno non lo sa non può farlo mi sembra così elementare questo concetto ma è difficile perché alla gente è più facile metterglielo in quel posto che in testa questa purtroppo è una mara verità e io direi che la possiamo prendere come citazione della giorno anche se poi ce ne sono state altre direttore però noi solitamente questa è una mara verità infatti poi ci lamentiamo anche della perdita di qualità nelle cose però insomma torniamo a un'espressione che ho usato all'inizio questa chiacchierata è un circolo vizioso ma se qualcuno poi non prende il toro per le corna quindi questa è la sfida più perché da lì poi credo si potrebbero migliorare tantissime situazioni certo il lavoro è indispensabile chi non lavora non vive ecco chi non lavora non fa l'amore si diceva però poi non si vive dell'amore si può anche fare a meno ma del pasto e della cena non si può fare a meno pensavo dicessi che l'amore si può fare anche se non si lavora no si può fare a meno si può fare a meno anche perché parliamo così chiaro la fatica è tanta il piacere dura poco e la posizione è ridicola ecco ecco perché chi ci segue lo sa non abbiamo più portato avanti il discorso del nostro fidanzamento eh lo so ma questa è una cosa segreta tra noi vero no appunto abbiamo proprio sbandierato lo sanno cari e porci però va bene grazie Vittorio Feltri alla prossima puntata allora noi continuiamo con questa tradizione anche per me soprattutto un piacere vedere te grazie e buon lavoro grazie altrettanto grazie a tutti grazie a tutti